Guarda Licinia, guarda il zio, e mamma che monta il seggiolone, il seggiolone e tante paffe diventa grande, grande a maggiorità, e fra poco Liciniana corre, 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 tra poco è andato di bene a luglio? Allora, dipende da Seria, bisogna vedere un attimo, se è in Germania, oh che bello, andate a fresco, esatto, io l'ho pensato a posto, e vabbè, a me così volevo andare da qualche parte, in Baviera, andate in Baviera, infatti quella era la mia, andate a vedere i castelli, che amato non c'è mai stato, è troppo bello, come è diventata grande la sua bimba, il 14 fa 7 mesi, è grande, guarda che grande, fra poco è come la sua mamma, fra due mesi cammina, fra due mesi cammina, e papà, e mamma, dov'è mamma, 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 non dorme più come prima, vero va? No, allora, la mattina, mo' ha preso abitura e dorme, se no, mezz'oretta, subito dopo la poppa, hai visto il zio, quel zio Giovanni, zio Giovanni, zio Giovanni, zio Giovanni, sta guardando e impare, hai visto, è impare, impare, lei come un, vicini a, lo sai che ha le fossette sui gomiti, vediamo, è super presa dalla... Licini a? Ho visto, sta montando il piacere della... Fa fare quando il sole, le fa fare la pappa nuda, nuda, sul pannolino, su la metà, non fa così caro, guarda, che c'è scritto, grande raccordo anulare, che è? Dove? Sul baglini? Ma no, tigra, è il nome, sui baglini, di un cartone al mare. Allora, vediamo? Sì, due. Spetta, mettiamo bene indietro, che si tiene una... Spetta da grande, sei proprio grande, qui in questo cittadino, il tavolo... Sono un po' larghi, no, va bene, tanto c'è quello davanti, se lo riesco per sicurezza, tanto non è che si, non riesce ancora a buttarsi fuori dal figlio, come ti sorrida la pappa? Adesso, Licini a mangiare la pappa. Mamma mia, guarda che buona, è buona, guarda come la guarda, c'hai fame, c'hai fame, ha detto nona Rosetta che tu vuoi mangiare di corsa, se la vorrebbe prendere, guarda, se la vuole prendere da sola. Beve pure acqua? Sì, perché poi, anzi oggi mi è venuta un po' in realtà, in intimità. Mamma che bello, cambia una tazza, metti una tazza, prenda, se la prende da sola. E con tutte scorte. Ha fatto il bagno a mare. Ha fatto il bagno a mare. No, abbiamo preso l'acqua. E nuota pure? E noi abbiamo preso la bagnarola di plastica, ci ha messo la guatimane. Ci ha messo la guatimane, ci ha messo il bagno a mare. Che brava! ti piace la rapina e proprio buonissima nota poi l'omogenizzato di vitella fatto come diventi grande per uno scottex vedi come fa si mette le mani in bocca aria fami quindi poi ha cominciato a partecipare in modo assurdo alla pappa cioè avevo fatto il bagnetto di dare mangiare mai dato una pappetta di pappette no ma non ti mette le mani in bocca ma vuoi che gliela do io vuoi si ecco un pochino d'acqua si vada a preparare la pappa per grande sta crollando sta crollando ma non vuole andare a dormire perché troppo impegnata a impicciarsi oggi adesso li crescono i capelli come mamma tutti ricci tutti belli che bel colore che c'hai i capelli paola ma i colpi di soli chi l'ha fatta si è brava a fare questo lavoro vicini a c'hai sonno primo piano di vicini a sonnate madonna che col ciucciotto guarda che occhi rossi vai a dormire va